Musica Sapete qual è la nostra agenda di governo, qual è il nostro programma, le priorità sono sicuramente la sicurezza sul lavoro, il divario di retributivo tra uomo e donna, l'aiuto, quindi la formazione, l'investimento in politiche attive e in servizi che diventa in continuità, quindi è una continuità rispetto appunto al governo precedente, tutto questo insieme può aiutare il paese ad uscire dalla situazione. Incontrerò tutti i lavoratori, il ministero ha assolutamente un'attenzione assoluta verso i lavoratori e quindi insieme al ministro Patuonelli, del ministro dello sviluppo economico, seguiremo i tavoli di crisi e daremo tutto il supporto ai lavoratori. Grazie. Grazie.